Voto Amaro è stato quello del 2013, un voto che ha consegnato l'Italia alla instabilità politica e governativa, un impasse istituzionale che ancora oggi il Paese sta vivendo. Ma la novità degli ultimi tempi analizzata nel libro Voto Amaro, scritto a più mani dagli associati di Itanes, è l'euroscetticismo che sembra diventata la moda politica del momento, ovvero scaricare sull'Europa la causa di tutti i mali che l'Italia sta vivendo. Il tema principale della campagna elettorale è stato quello di chi è responsabile per la crisi in cui si dibatte il nostro Paese. L'Europa è stata individuata come un caprio espiatorio e questo funziona ancora, è un messaggio facile che le persone possono comprendere, che alcuni partiti legittimamente possono sfruttare. Soltanto che ci dimentichiamo che l'Europa non è soltanto una sede a Bruxelles, l'Europa è fatta anche di italiani che devono essere presenti nelle sete appropriate e che devono difendere i nostri interessi. E ancora oggi chi è più sintonizzato con la piazza? Sempre Grillo o anche gli altri partiti stanno, come dire, orientandosi diversamente? Beh, i sondaggi che noi vediamo sulla popolarità di Grillo sono abbastanza stabili. Il recente elezione al segretario con le primarie di Matteo Renzi sta dando un sostegno a una crescente popolarità del Partito Democratico. Bisogna vedere come questo sostegno al leader troverà in piattaforme politiche, programmatiche, di policy, di politiche da perseguire, una qualche forma di coerenza. Al momento c'è stata una divaricazione. Grande popolarità del leader ma scarso appeal dei programmi dei partiti. Qui a Itanes sta per Italian National Election Studies ed è un'associazione con sede a Bologna che periodicamente in occasione delle elezioni politiche conduce delle inchieste di massa, delle survey. Cerchiamo di capire attraverso questi studi non solo chi vota cosa ma perché, qual è la base sociale del voto, cosa c'entra l'Europa nel decidere poi i meccanismi di voto e anche per esempio il tema del Limo. Insomma sono tanti i temi che indaghiamo in questo testo scritto a più mani ovviamente c'è da tutti i soci poi di Itanes. Fabio Siricchio nel suo capitolo che cosa ha studiato? Io in particolare insieme con una collega di Torino che si chiama Marinella Belluata abbiamo cercato di capire se l'Europa è entrata in campagna elettorale, l'Europa come tema forte e abbiamo visto che è entrata in campagna elettorale e se ha deciso poi il voto, cioè se è una persona euroscettica che non crede all'Europa, se questo suo euroscetticismo ha modificato la sua percezione e quindi il suo voto. Questo in effetti è accaduto con un ruolo forte non tanto della tv ma dei social media, questo abbiamo cercato di indagare, cioè Facebook, Twitter, questo orienta di più verso un partito euroscettico, cioè usare molto i social media orienta verso un partito che fa dell'euroscetticismo la sua bandiera.